Diluse le aspettative di chi aspettava finalmente risposte certe sulla sempre più carente rete viaria del Cilento. La seduta monotematica del Consiglio Provinciale, convocata per ieri, è infatti saltata a causa del mancato raggiungimento del numero legale. Sia la maggioranza che l'opposizione hanno preferito snobbare l'Assemblea, lasciando la mare o in bocca a quanti quotidianamente patiscono gli effetti di una mancata manutenzione e di un'altrettanto grave programmazione. Al primo appello dell'assise provinciale, su 36 consiglieri erano presenti soltanto 13, ancora meno alla seconda chiamata. Gli scranni di Palazzo Sant'Agostino erano occupati soltanto da 9 consiglieri. Assenti perfino gli appartenenti al Partito Democratico, proprio quell'oro che avevano chiesto il confronto. Di qui il rinvio della seduta. Se questo è il livello d'attenzione che gli amministratori provinciali hanno verso la viabilità e la vivibilità del nostro territorio, allora è meglio mandarli a casa, hanno commentato all'unisono molti sindaci del Cilento e del Vallo di Diano. Percorrere le provinciali a sud di Salerno, infatti, significa compiere un percorso ad ostacoli, tra frane, avvallamenti, restringimenti e chiusure totali. Un'annosa vicenda che le amministrazioni, succedute sia a Palazzo Sant'Agostino, si tramandano da tempo senza mai trovare soluzioni adeguate e che oggi le risrettezze economiche rendono ancora più difficili. Ma ora la misura è colma e i centinaia di residenti a sud di Salerno pretendono risposte certe. Perché hanno fatto sapere le strade alla prossima tornata elettorale saranno sbarrate, anche per chi, in precedenza, ha attraversato il Cilento e il Vallo di Diano e il Lungo e il Largo per lemosinare consensi elettorali.